ciao bimbi avete visto finalmente è arrivata che cosa ma la primavera naturalmente quest'anno si è fatta attendere un bel po eh che cosa ne dite ma finalmente come ogni anno ecco un'esplosione di gioia di profumi di fiori di colori tanti colori quanti quelli che ho trovato nei vostri disegni sabbiarellati e allora che dite li facciamo vedere uno ad uno perché io vi voglio ringraziare proprio tutti dai cominciamo alessandro ho visto che per sabbiarellare usi niente meno che un vassoio d'oro ma allora i tuoi disegni sono super preziosi ciao anche a te dolcissima alessia ti sei divertita a sabbiarellare il mondo degli ignomi e poi ha inventato anche delle storie se sì raccontamile dai che sono curioso e come si fa a resistere ai sorrisi di aurora e margherita ciao ragazze la vostra allegria è contagiosa e complimenti per i vostri disegni sabbiarellati massimiliano per te un ciao gigante grande come il tuo presepe sabbiarelli che è veramente bellissimo mi fa venire voglia di tornare al natale pensa un po ciao emma fammi indovinare un po ti piacciono i cavalli anche a me sai tantissimo una volta ho anche provato a cavalcarne uno ma ho le gambette troppo piccole e ho fatto un capitombolo e qui cosa abbiamo tutte le lettere dell'alfabeto colorate con i sabbiarelli da eloise cinque anni di super mega bravissimitudine ciao eloise allora adesso aspetto anche la fotografia con i numeri sabbiarellati anzi bambini aspetto da tutti voi nuove foto dei vostri momenti di gioco con i sabbiarelli mandatemele al solito indirizzo dai il mondo di sappi chiocciolasabbiarelli.it a estrazione tra tutti i partecipanti un bellissimo mini kit storytelling gli ignomi così chi lo vince dopo aver colorato tutte le carte del gioco potrà mandarmi non solo le foto dei disegni sabbiarellati ma anche le storie che potete inventare ecco mi pare di avervi detto proprio tutto giusto? ah no che sbadato manca ancora un saluto quello a federica la vincitrice del contest di questa puntata brava federica i guffetti sabbiarellati ti hanno portato fortuna e presto ti porteranno anche il mini kit bambini e cuccioli così potrai continuare a colorare con i sabbiarelli e mandarmi altre foto super scintillanti ma c'è un altro mini kit bambini e cuccioli da assegnare quello per chi ha partecipato al contest dell'indovinello regia mettimi un rullo di tamburi così così ancora uno un altro un altro ancora ok ok lo dico vince il secondo mini kit bambini e cuccioli monia guidetti complimenti monia sono sicuro che vi divertirete un sacco con questo kit di sabbiarelli e complimenti anche a tutti voi che avete indovinato ma senza vincere non temete ho un altro indovinello proprio qui sulla punta della lingua quando è giorno è blu o azzurro con le nuvole di burro alla sera è arancione se c'è stato il soleone la mattina è rosa e viola in lui ogni cosa vola con la nebbia indossa un velo hai capito è proprio il scrivete nei commenti al video qui su youtube la risposta e anche per voi indovinatori di indovinelli in palio a estrazione un bellissimo mini kit storytelling gli ignomi appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti